Ah, Evie! Stavo mostrando a Jacob i primi messaggi giunti con le linee aggiustate. Oh, e puoi tenere quel lanciacorda. Ne ho pronto un altro per tuo fratello. Ottimo lavoro. Grazie, di nuovo. È stato un vero piacere. Ora possiamo difendere il principio dell'informazione imparziale e libera. Libera va bene, ma libera e concisa è molto meglio. Ah, Jacob, sempre caustico. E dopo questa ce ne andiamo. Oh, buona fortuna a entrambi. Venite da me quando volete.